E' ora di mettere all'opera quei guanti anti-gnomi Mamma vuole che lanciamo quelli ignomi oltre questo re Per riuscire a lanciarli Una volta raggiunti Cremi il tasto triangolo per lanciare Per riuscire a 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 lanciare E' stato davvero divertente Vuoi giocare un'altra volta? Ciao! Per riuscire Bene Vedetemi il ragazzino è un vero campione Sei stato grande, Harry! Per riuscire a lanciare Per riuscire a lanciare Oh che spettacolo Expelli Armus Molto bene, Harry Adesso... Fantastica bozza di potter Il ragazzo è in ottima forma Un colpo tremendo Preparati Combatti Combatti Oh credetemi Il ragazzino è un vero campione Premi il tasto cerchio Premi il tasto cerchio Per lanciare Gli incantesimi speciali Una mossa eccezionale Un colpo tremendo Expelli Armus Expelli Armus Expelli Armus Wow incredibile Hai un talento innato, Harry Dobbiamo trovare Ginny E' scomparsa E tutta la famiglia La sta aspettando Per andare a Diagon Alley A comprare il materiale scolastico Dividiamoci e cerchiamola Oh dimenticavo Se ti accorgi di essere a corto Diagoni Quando Meti A Una Dacciate Linie Diagoni 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 Dice Biologico Diagoni Diagoni C'est Diagoni Diagoni Livello! Livello! Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Livello! 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 Vingardium Leviosa! Livello! 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 Seguirai! Il vento! Il vento! Il vento! Si t'es a provventions est normale. Il vento! Le vento! Il va yuter et le feu. Il t 61 contract. Grazie a tutti.